Il Napoli è una squadra per luttare di cose importanti, allora dobbiamo pensare a questo, sappiamo che iniziare così con l'estadio vuoto, di avere il calcio così è duro, però dobbiamo trovare questa mentalità, in spagnolo diciamo questo positivismo di fare le cose bene e pensare a quell'oggettivo che abbiamo parlato e nella preparazione. Lo dice anche a noi qual è questo obiettivo? L'oggettivo è che Napoli deve essere nel primo posto di lottare il campionato, di fare il massimo per andare di nuovo alla Champions League, allora dobbiamo fare il nostro lavoro per fare un bel campionato. A noi il Napoli l'ultima mezz'ora con il 4-2-3-1 è piaciuto assai, è piaciuto anche a te? Sì, benissimo, penso che quando si lavora bene, quando si fa le cose con questi caratteri, con la concentrazione che bisogna per fare una bella partita, puoi cambiare a 4-3-3, 4-2-3-1 e le cose vanno bene. C'è chiaramente grande curiosità adesso per Victor, per Osimè, ce lo racconti un po' l'Osimè dello spogliatoio, che quello in campo lo vediamo, nello spogliatoio ci siete solo voi. È un ragazzo tranquillissimo, un ragazzo che vuole migliorare, che vuole apportare cose importanti alla squadra e un ragazzo che penso che questa stagione farà cose bellissime. Ci sono tanti paragoni, te ne dico uno perché riguarda un colombiano, trovi qualcosa di espriglia? Sì, penso che sì, questa gamba lunga che aveva espriglia, questa qualità, penso che sono un po' uguale in questa situazione. È sempre un po' speciale la prima in casa? Sempre, sempre, dobbiamo fare rispettare la nostra casa, giocare al San Paolo. Come l'ho detto prima, è difficilissimo di non avere le tifosi, di avere l'estadio vuoto, però penso che arriverà a questo momento che tutti i tifosi ritornaranno allo stadio. In questo momento dobbiamo concentrarsi in fare le partite bene, di fare questa partita bene che è la prima a casa e aspettiamo di fare le tre punti. Questo è un gruppo tranquillissimo, magari che è un po' complicato per quello che non hanno la soluzione per continuare la sua carriera, che è loro che vogliono rimanere, loro che vogliono partire, però qualcuno saprà che deve fare. Lo più importante in questo momento è guardare la prossima partita, che è Genova, e prepararla della migliore maniera. Grazie a tutti.